Buongiorno a tutti, sono Simone Gagliardi, Sales Manager Italia per quanto riguarda Philips Public Signage, quindi tutto ciò che riguarda il mondo large display di Philips. Abbiamo una gamma prodotti che presentiamo interamente qui ad Ise, da 32 pollici fino a 65 pollici, monitor tradizionali, LCD, monitor LED, monitor touch e adesso andremo a introdurre brevemente alcune delle nostre tecnologie. Qui vedete un table touch da 55 pollici, 32 tocchi contemporanei, con movimento meccanico che rende questo tavolo anche chiosco. Ok, perfetto, quindi questo tavolo ovviamente può essere usato nel mondo educational, nel mondo informativo, come Wayfinder, insomma mille ambiti di tutto ciò che è il mondo touch. Dietro questo tavolo vediamo un'altra unicità che stiamo presentando qui ad Ise ed è un video wall, in questo caso uno per tre, touch screen. Vediamo la nostra ragazza che ci fa vedere alcune possibilità e soprattutto ci fa vedere come il video wall è una soluzione di continuità unica, chiedo scusa. Ok, anche qui gli ambiti di utilizzo sono le presentazioni, la comunicazione, l'educational, parecchi ambiti di utilizzo. Allora qui abbiamo la nostra nuova serie Q-Line, è la nostra nuova serie LED, quella che viene definita Prosumer, quindi è un 16 su 7, sempre come tutti i nostri prodotti garantiti tre anni, single weapon on site, è il nostro nuovissimo LED entry level, abbiamo tre formati, 46 pollici, 42 pollici e 32 pollici. Riteniamo che saranno i nostri best seller per quest'anno, puntiamo molto su questi prodotti, hanno la possibilità di gestire contenuti attraverso l'USB, quindi attraverso una semplice chiavetta USB si potranno gestire contenuti digital signage in maniera semplice e intuitiva. Qui abbiamo uno dei nostri totem, in questo caso un nostro partner ha sviluppato una carinissima soluzione Jukebox, che adesso questa bella ragazza ci mostrerà, quindi selezionatore di musica e, perfetto, ok, quindi molto carina come soluzione. Allora qui arriviamo nel mondo educational, dove la nostra soluzione di lavagne interattive prevede anche qui monitor di grande formato, fino ad arrivare oltre 65 pollici, come vedete la ragazza sta scrivendo sulla lavagna interattiva e contemporaneamente nella classe tutto ciò che viene effettuato sulla lavagna viene replicato anche sui singoli monitor. Ci avvaliamo di tantissimi partner che forniscono le loro soluzioni per il mondo educational. Una delle parti più importanti che presentiamo qui a DISE è il nostro nuovo player Android, ovviamente più piccolo di questi, però ecco, qui c'è una rappresentazione grafica, questo per dire anche che siamo in grado di fare delle personalizzazioni su totem di questo livello, quindi con loghi, colori, scritte e ovviamente schermi. Però quello che stiamo presentando in realtà è, come dicevo prima, un player digital signage, web-based, quindi basato su quello che è ad oggi la piattaforma più aperta, lo forniamo con una, come dicevo, una soluzione cloud-based, con una licenza software di content management per il digital signage, free per un anno, che non ha nulla da invidiare a quelli che sono i più conosciuti software oggi in commercio per il digital signage.